Salve di Krap, Piffan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Tailandia. Un comitato nazionale per la politica dei veicoli elettronici, noto anche come Consiglio dei Veicoli Elettronici, giovedì ha concordato in linea di principio una proposta per ridurre l'accisa sulle batterie dei veicoli elettrici dell'attuale 8% a solo un 1%, offrendo un sussidio di 28 miliardi di BAT all'industria produttrice di batterie per veicoli elettrici. Il sussidio sarà in base all'ordine di arrivo, affermato il Ministro dell'Energia, Suba Tanapong Pumichao. Il sussidio dovrebbe aiutare a ridurre i prezzi delle batterie dei veicoli elettrici e dei veicoli in generale, il che nel tempo aumenterà l'industria produttrice di veicoli elettrici del Paese. L'importo della sovvenzione offerta dipenderà dalle dimensioni della batteria prodotta affermato Suba Tanapong. Un produttore di una batteria per veicoli elettrici con una capacità inferiore a 4 GbWh riceverà un sussidio compreso tra 400 e 600 Watt per kWh, mentre una fabbrica per produrre una batteria per veicoli elettrici di oltre 8 GbWh riceverà tra i 600 e i 800 Watt per kWh. Aggiunto il Signor Suba Tanapong Pumichao. Bene, per questo video è tutto. Mi seguite e vi avvolgo mai al prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata.